Tutti conoscono il cartone animato, ma tu sai preparare la ratatouille? In un giro d'olio faccio rosolare le melanzane a cubetti Aggiungo il sale e lascio cuocere per 8 minuti Quando le melanzane sono rosolate le tengo da parte e verso le zucchine Sale anche qui e cuocio per 5-6 minuti Via le zucchine, altro giro d'olio, dentro cipolla e aglio tritati Poi verso pomodoro e peperone a pezzetti Un po' di sale e lascio andare per 10 minuti Di nuovo in panella, melanzane e zucchine e lascio cuocere tutte le verdure insieme per 20 minuti Pronto! Non resta che condire con basilico e timo Buon appetito!